Notizie allarmate per un taglio dei fondi destinati ai mezzi dei vigili del fuoco e la situazione resa di pubblico dominio dalla CGL. Questo taglio va a incidere soprattutto sui mezzi aerei, le autoscale, che è un mezzo importantissimo per il nostro soccorso, diciamo fondamentale. La nostra protesta, diciamo protesta e informazione, è cominciata proprio a Pistoia, per un fatto accaduto a Pistoia, nella notte del 30 di marzo scorso, dove la direzione, a causa di un ulteriore guasto di un'autoscala, ha disposto che l'unica autoscala in servizio a Pistoia in quel giorno fosse dislocata presso un altro comando e tutta la nostra provincia dovesse essere coperta da autoscale e di altri comandi. Anche se il fatto è rientrato dopo poco tempo, però questo non si può lasciare perdere, che sia una cosa gravissima. Sul territorio provinciale ci sono due autoscale, ma quella di Montecatini è stata pochissimo disponibile perché distaccata presso altri comandi, sottolinea il sindacato, è peggiore, è la situazione delle autogru. L'autogru prevista del comando di Pistoia è da oltre un anno ferma nel piazzale, in attesa che venga autorizzata la riparazione, che non è fatta. E le autogru all'interno della regione sono una cosa quasi rara, ce ne saranno in servizio quando va bene 4-5, ma a volte si arriva a averne 3 soltanto. Se riferisce il sindacato, autopompe e autobotti risultano, per numero appena sufficienti, la situazione è allarmante per l'anzianità dei mezzi a disposizione. Abbiamo mezzi che nella migliore delle ipotesi sono intorno ai 20 anni, ma alcuni arrivano vicino ai 30. Per fare un esempio, l'autopompa più usata nella sede centrale a Pistoia è del 97. In compenso, si sottolinea dalla CGL, si sono spesi fondi per l'acquisto dei robot tripper. L'impiego di questi mezzi è una cosa molto rara, quasi impossibile, ci vuole delle caratteristiche particolari per usarlo. Non riteniamo accettabile che a comando di Pistoia si abbia un tripper in servizio in sede centrale e tutta la Val di Nebole sia scoperta dall'utilizzo della Toscala. A fronte di questa situazione cosa avete fatto come sindacato? Noi abbiamo mandato prima una nota alla direzione chiedendo spiegazioni, la direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Successivamente tutti i coordinamenti provinciali della CGL hanno scritto ai prefetti informandoli della situazione e chiedendo di intervenire. Ora, come terzo punto, abbiamo deciso di informare i cittadini per far sì che questa situazione venga risolta. Grazie a tutti.